Un commissario straordinario per concludere il cantiere delle paratie. Secondo il presidente del lancio di Como, associazione e costruttori edili, per uscire dalle sabbie mobili in cui sono precipitati i lavori del Lungo Lago dopo i rilievi critici sollevati dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, sarebbe necessario un intervento straordinario. La proposta è stata lanciata dalle pagine del Corriere di Como, dalle quali il numero uno degli edili punta il dito in primis contro la burocrazia. La situazione del Lungo Lago è la dimostrazione palese di come il sistema burocratico-amministrativo italiano sia inadatto e inadeguato, ha detto Guffanti, sottolineando come a pagare il prezzo più alto sia la città. Da detto ai lavori capisco perfettamente le difficoltà burocratiche con cui spesso ci si deve scontrare, detto questo però trovo inspiegabile che un paese che si dichiara evoluto, come l'Italia, aggiunge impieghi anni e anni per completare un'opera pubblica, tra l'altro con un'esplosione dei costi tutt'altro che indifferente. Su quali vie per correre per riuscire a far ripartire i lavori Guffanti sembra avere le idee chiare? Io credo che un sindaco non abbia nemmeno gli strumenti per far sì che i lavori possano concludersi in tempi rapidi, afferma ancora il presidente del lancio di Como. Ci vorrebbe un commissario straordinario nominato dal governo con i poteri necessari per poter terminare il cantiere. Parallelamente, conclude, dovranno essere accertate e perseguite le eventuali responsabilità dei singoli.